Una domenica molto particolare perché la liturgia ordinaria si ferma per dare spazio a una festa liturgica che cade il giorno di domenica, cioè la presentazione di Gesù al Tempio. È una giornata importante perché ricorda un momento fondamentale della vita di Gesù, grazie alla fede, all'apporto che hanno dato i suoi genitori, Maria e Giuseppe. Ma è anche la giornata della vita consacrata, ovvero il ricordo, la preghiera e il ringraziamento per tutti coloro che hanno donato la vita a Dio e quindi che hanno donato la vita per annunciare Dio al mondo. In questa giornata particolare ringraziamo il Signore per tutte quelle persone consacrate che ci ha messo nel nostro cammino e che ci hanno dato consolazione, magari un sorriso nel momento della tristezza, magari ci hanno rialzato nel momento della difficoltà e ci sono amiche durante il nostro cammino di vita. Ma veniamo al Vangelo di questa domenica, appunto della presentazione di Gesù. Ci sono Maria e Giuseppe. Oggi, dopo le importanti feste natalizie, li ritroviamo. Sono una famiglia che ha vissuto parecchi terremoti, ma che con la fede li ha superati tutti. Pensate al trauma dell'annunciazione, al presunto tradimento che ha pensato Giuseppe della sua fidanzata Maria, della fuga in Egitto, della persecuzione a causa di Erode. Gesù, in questa giornata, è portato al Tempio per la circoncisione, cioè per un atto di fede verso la religione ebraica. È un segno di obbedienza alla legge ebraica del tempo. È un segno che fa capire l'attaccamento di Maria e Giuseppe alla tradizione, al desiderio di portare avanti ciò che avevano ricevuto. Oggi, invece, è più facile snobbare le tradizioni. È meglio non battezzare i bambini piccoli, è meglio non andare a messa, è meglio non vivere la fede come ci hanno insegnato i nostri avi, le persone che hanno trasmesso lungo i secoli la fede. Oggi siamo nel tempo del ridicolizzare ciò che abbiamo ricevuto in eredità dalla nostra famiglia, dalla nostra storia, in fatto di fede. Il Vangelo di oggi ci deve scuotere per riprendere in mano questa grande eredità, questo grande tesoro che è la tradizione della nostra fede e testimoniarla con coraggio. Oltre a Maria e Giuseppe, in questo Vangelo incontriamo Simeone, un personaggio che per molti è sconosciuto, ma è un esempio di vita per ognuno di noi. È un uomo di vera fede, un uomo vero, perché Simeone è il simbolo della fedeltà a Dio, è anche simbolo di aver superato una vita difficile grazie a Dio, una vita fatta di fatica, di illusioni, di ansia, di attesa. Anzi, Simeone è proprio l'uomo dell'attesa, perché è simbolo soprattutto della ricerca di Dio nella sua lunga vita. Simeone ricerca luce che illumini la sua vita, nonostante i tanti dubbi. Simeone ricerca la pace che plachi tanti conflitti interni che ha. Simeone ricerca il calore che dia vita alle fredde relazioni. Le parole che dice Simeone sgorgono dal suo cuore e diventano una preghiera. Non a caso, il Vangelo di oggi, una parte del Vangelo di oggi è la preghiera che tutti i consacrati hanno l'obbligo di recitare alla sera prima di andare a dormire. La preghiera infatti si chiama compieta e all'interno di questa preghiera c'è proprio il Vangelo di questa domenica, le parole di Simeone che sono Ora puoi lasciare, oh Signore, che il tuo servo vada in pace secondo la tua parola, perché i miei occhi hanno visto la tua salvezza, preparata da te davanti a tutti i popoli, luce per rivelarti alle genti e gloria del tuo popolo Israele. È una preghiera meravigliosa, è un cantico che riempie il cuore di consolazione e di speranza certa se viene pregata, letta, accolta col cuore. Le braccia di Simeone ora dopo una vita di attesa sorreggono Gesù, lui non è più solo. Gli occhi di Simeone ora vedono ciò che ha sempre sperato, cioè il Messia. Questa preghiera è un addio alla vita con il cuore pieno. Ora Simeone ha capito che Dio è fedele e che la sua vita è un dono prezioso. Bellissimo poter spendere del tempo per vedere nel dettaglio questa preziosa preghiera, questo cantico di Simeone. Però vediamo invece velocemente qualche spunto di riflessione su queste parole. La prima frase, ora puoi lasciare o Signore che il tuo servo vada in pace, parla di ognuno di noi. È bello accogliere l'inizio e la fine della vita con la pace interiore. Oggi c'è paura di parlare della morte come se fosse la fine, è un tabù. Invece è necessario parlarne, perché la morte non è una fine, è un confine, perché entra nella vita eterna. È un lasciarsi andare sapendo di non aver atteso in vano e di aver gustato i giorni della vita con fede retta e speranza certa, come direbbe San Francesco d'Assisi. Quanti invece oggi vedono scorrere il tempo e sentono che gli anni passano o sono passati in modo sterile. Questo è perché non si è gustato la preziosità della vita, l'attesa di incontrare ogni giorno Dio nella nostra vita. Avere colui che riempie i giorni e non che fa passare i giorni. Poi il cantico di Simeone ha delle parole che sono importantissime, perché dopo la frase Ora puoi lasciare, oh Signore, che il tuo servo vada in pace, c'è scritto Secondo la tua parola. Ritorniamo ad una frase che toglie spazio all'io per darlo a Dio. È la frase di Maria all'Annunciazione. È la frase della vera fede. È veramente ascoltare, accogliere, far abitare in noi stessi la parola di Dio. Proprio domenica scorsa Papa Francesco ha vissuto la prima domenica della parola e l'ha estesa a tutte le chiese. Cioè la domenica scorsa in tutte le chiese c'è stata questa grande sottolineatura dell'importanza della parola di Dio. Secondo la tua parola. E poi questa preghiera continua dicendo perché i miei occhi hanno visto la tua salvezza. È un invito chiaro ad aprire gli occhi e a vivere la vita e a non farci vivere la vita trascinati dal mondo. Questi occhi che vedono la salvezza ci chiede a noi di avere gli occhi del cuore attenti a ciò che viviamo e a non essere distratti dalla routine che ci soffoca dietro mille altre distrazioni. Ma questa luce che gli occhi devono vedere, la salvezza che gli occhi devono vedere, continua il cantico di Simeone dicendo è preparata davanti a te a tutti i popoli. Come a dire che nessuno è escluso dalla salvezza. Perché basta volerlo, basta crederci, basta testimoniare, accogliere veramente la propria fede cristiana. Sovente siamo troppo disillusi e schiacciati dal non riuscire a credere più. Invece no, dobbiamo svegliarci, dobbiamo risvegliare, dobbiamo togliere quella sabbia e quella polvere che hanno coperto quel bellissimo pozzo pieno d'acqua che è la nostra fede. Dobbiamo di nuovo tornare a bere al pozzo della fede, quella che disseta. Perché se vediamo abbiamo sempre un'aridità spirituale nei giorni che passano. E poi questa preghiera conclude, si conclude con questa frase. Luce per rivelarti alle genti e gloria del tuo popolo Israele. Gesù infatti è la luce. Simeone ha in mano finalmente ciò che ha atteso. Gesù, la luce. Non a caso poi Gesù si definirà proprio come io sono la via, la verità e la vita, la luce del mondo. Senza Gesù purtroppo viviamo nel buio, bisogna ammetterlo. Viviamo nella non speranza e vediamo una vita che si tinge sempre più di nero. E questa luce rivela appunto la gloria. La gloria a livello biblico è l'importanza. Ovvero Gesù è colui che dà importanza, dà gloria, cioè dà peso alla nostra vita. Perché il mondo ci vuole schiacciare. Gesù ci vuole alzare. Ecco che allora il Vangelo di questa domenica ci porta ad essere un po' come il vecchio Simeone. Attendere con certezza e accogliere Gesù con fierezza. Allora, alla luce del cantico di Simeone, buon cammino di vita a tutti. Quindi, specialmente oggi, a coloro che sono chiamati a essere immagine di Cristo, di essere ancora di più dei Simeoni nel mondo. Ovvero a tutte quelle persone che hanno donato la loro vita per annunciare Cristo al mondo, per portare nel presente e nel futuro la bellissima tradizione della fede cristiana, di colui che è nato, morto e risorto per ognuno di noi, per darci una vita piena, una vita eterna.